Ok Ah non si vede che c'è nel senso di stare su Come devo stare su? Devi stare nel senso di vieni Esatto Si vede fino a un metà Ma te non si vede? Si credo si L'ho spostato a te Prende fino a lì Allora Ho il metà una roba così No Forse andando avanti da un po' no? Passerà Andando avanti da un po' no? Passerà Non passerà Non passerà Va bene avanti da un po' no? Oh, un attimo Non passerà Non passerà Non passerà Non passerà Non passerà Ce lo fanno tutti insieme Capito Un po' rallentato Capito E questo Questo è quello che mi ha detto Senti che iniziano avanti quello Andando avanti da un po' no? Andando avanti da un po' no? Anzi capito? e pian piano quelle distorte c'è una cosa veloce una chitarra pulita che lo fa capito che si chiude abbastanza veloce quelle distorte le lasciano un po' lungo dopo Massa fa così capito? ma che va giù di volume subito secondo me è bello così corto fare una roba è un po' più lente così comunque perchè il tempo è la canzone non passerà è così non lo so cioè mi piace però non mi piace tantissimo tipo di così figata cioè mi piace sì però non so cioè non ho una roba di arte no no non c'è una roba no che magari non ci sia qualcosa di meglio cioè nel senso si può essere che riprenda qualcosa di prima non lo so cioè non è il finale che dico sì figata è suo cioè ci sta tantissimo tipo cioè sì è carino è bene però non lo so non lo so perché c'è dopo da questa roba forte no 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 ma quello che è bene questo mi piace sì sì ma anche che è in famiglia si è anche bello lì è che dopo non so beh nel senso non è male finire col contattempo non passerà non lo so io non lo farei così perchè mi sa più da appunto Foo Fighters come dicevamo c'è più spinto fare c'è più spinto fare c'è questo mi sa il reintro che facciamo come di solito eh ma nel senso preferisco tra i due però non è ancora comunque quello che mi convince no ma era carino con quel Fadiesis però però non so se no la finiamo eh nel senso facciamo un fade out facciamo un fade out se no la finiamo cioè capito si può finire va che cioè è bella cioè dopo tutto sto finale cioè va che pensiamoci a sta roba sono giapponesi eh va a cagare no no cioè questa qua non fa una nota lunga non mi ha mai una nota lunga in tutte le stazioni si si beh si anche su ho ragione ah ma perchè dai allora tagliata no mi piace si perchè fai il cioè qua carica già lo so lo so lo so beh cosa diverso no c'è tipo tà nà 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 nà